Musica e cultura. Cremona continua a valorizzare questo importante connubio. Da oggi a domenica infatti chiunque visiterà Mondo Musica, manifestazione internazionale dedicata agli strumenti musicali di alto artigianato e inaugurata oggi, potrà accedere gratuitamente ai musei del sistema museale della città, che comprende il Museo Civico alla Ponzone, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale e il Museo della Civiltà Contadina. Il percorso, lo ricordiamo, potrà anche essere capovolto. Un solo biglietto comprato in uno di questi musei garantirà la possibilità di passeggiare liberamente fra i vari stand di Mondo Musica. E non è finita. Domani Cremona parteciperà alla Giornata Europea del Patrimonio e per l'occasione tutti i musei del sistema museale accoglieranno il pubblico proponendo visite guidate gratuite. Cremona insomma ancora una volta apre le porte dei luoghi d'arte per aprire gli occhi e la mente. Grazie a tutti.